Questo è il nostro forte tentativo, coraggioso anche direi, di sostenere il mondo dell'artigianato artistico. Visto tutto quello che si è battuto sulle nostre vite in questi mesi, il Comune di Mogoro c'è, vuole continuare a preservare il mondo artigiano, a promuoverlo attraverso questa importantissima vetrina. Abbiamo più di 90 artigiani, 12 settori provenienti da tutta la Sardegna, eventi, laboratori. Noi speriamo che la gente venga a visitare la nostra fiera e che possa in questo modo contribuire a dare un segnale di speranza e di supporto al mondo dell'artigianato, che ne ha veramente bisogno in questo periodo.